Fondazione Cariplo ha aumentato la sua partecipazione in Intesa San Paolo S.p.A., la banca di riferimento. Il percorso si è concluso nei giorni scorsi con l'acquisto graduale sul mercato di circa 194 milioni di azioni e un investimento di poco inferiore ai 350 milioni di euro. La quota di partecipazione di Fondazione Cariplo al capitale di Intesa San Paolo passa dal 3,9 al 4,8%, consolidando così la propria posizione di secondo azionista stabile della banca. L'operazione è stata deliberata dagli organi della Fondazione, visto il piano di impresa 2022-2025 di Intesa San Paolo. Fondazione Cariplo conferma il proprio ruolo di investitore di lungo termine in Intesa San Paolo, soggetto cruciale per l'economia del Paese, che ha presentato un piano di impresa in cui crediamo e per il quale rinnoviamo sostegno e plauso al management e alla governance della banca, ha commentato il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti. Questo nuovo investimento è coerente con gli obiettivi della Fondazione di porre grande attenzione al valore del patrimonio, all'investimento sul sistema paese e alla generazione sostenibile nel tempo di risorse su cui la Fondazione conta per sviluppare l'attività filantropica in favore del nostro territorio di riferimento, da cui emergono sempre più bisogni. Domani nella sede di Comunext a Lomazzo è in programma il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo, al termine è in programma una visita al Parco Scientifico e Tecnologico. Grazie a tutti.